Denunciamo ciò che stiamo vivendo, l'abbassamento dei livelli di assistenza dovuto alla cattiva gestione del personale e alla mancata e scorretta programmazione nella nostra ASL. E' il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermeristiche del BAT, Giuseppe Papagni, a commentare i tagli e gli enormi disagi registrati nella sanità pugliese. La sospensione temporanea dei ricoveri nell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie, disposta fino al prossimo 10 agosto, è così solo l'ultimo tassello di un puzzle che ben delinea le problematiche e le criticità che la sanità nella sesta provincia pugliese vive. La decisione è stata annunciata e sentenziata dal direttore dell'ASL BAT, Alessandro Delle Donne, con decorrenza immediata per la motivata e definita gravissima carenza di personale medico-specialista in cardiologia. Ma le difficoltà riscontrate non riguardano solo il presidio sanitario di Biceglie, anche l'ospedale Bonomo di Andrea in affanno per la mancanza di personale. Vengono abbassati i livelli di assistenza dovuta a una mancata programmazione del fabbisogno del personale all'interno della nostra ASL, con addirittura degli interi ospedali che, grazie appunto a questa mancata programmazione di fabbisogno, sono costrette oggi a accorpare reparti e a ridurre i servizi che vengono appunto erogati a cittadini. Le situazioni più gravi le registriamo in alcuni presidi ospedalieri, quali Bonomo di Andrea, in cui appunto c'è questa gravissima situazione in cui rischiano appunto di accorpare interi reparti e soprattutto nell'ospedale di Biceglie, dove rischia di chiudere la cardiologia. Ma le criticità rilevate nella sanità pugliese non terminano qui. Siamo qui anche a denunciare la mancata assunzione da avvisi pubblici di personale infermieristico, soprattutto riguardo un bando che è scaduto l'anno scorso e che non è ancora stata deliberata la graduatoria.